Corrado De Dominicis, direttore della Caritas Diocesana Pescara Penne, qui siamo all'interno della mensa Casa della Solidarietà Madre Teresa di Calcutta, che è divisa in due, perché c'è la mensa e c'è l'emporio della solidarietà. Naturalmente voi gestite, lo sappiamo, la cittadella della Caritas con il dormitorio a Pescara, qui siamo a Montesilvano e ci si prepara per il pranzo natalizio di domani e per Santo Stefano. Sì, ci si prepara in modo particolare anche oggi per vivere questo momento della vigilia e poi per celebrare bene domani presso la cittadella il pranzo e poi la cena. Come sappiamo è una struttura che funziona 365 giorni all'anno e in queste occasioni si cerca di sottolineare il momento con attenzioni particolari come il menù, ma anche come un piccolo regalino che gli ospiti della cittadella hanno preparato e doneranno ai volontari. Causa Covid poi ci saranno dei pasti scaglionati, tre turni, all'incirca quante persone ospiterete? Da quello che noi abbiamo chiesto per capire più o meno i numeri, i numeri saranno più bassi rispetto alle giornate normali e questo è un bene perché significa che qualcuno riesce a riavvicinarsi alla propria famiglia o comunque qualcuno è accolto anche in altre situazioni. All'incirca per domani abbiamo preventivato nella giornata più o meno 140 pasti, 140-150 pasti. Non c'è soltanto il dramma della povertà che riguarda, ormai lo sappiamo, non solo gli stranieri ma anche diversi italiani, causa anche pandemia, ma c'è anche un forte senso di solitudine, infatti in molti si rivolgono al centro di ascolto. Sì, ovviamente anche le misure che teniamo per attenuare, se non altro, questo dilagare del contagio, soprattutto in quest'ultimo periodo, implicano tante attenzioni, tra queste tante attenzioni c'è un po' quello di dover stare da soli, soprattutto per le persone anziane. Allora spesso qualcuno ultimamente chiama al centro di ascolto semplicemente per parlare, per sentire una voce amica, quindi c'è anche un invito da parte della Caritas a ciascuno, parenti ma anche amici ma anche vicini di casa, di fare una telefonata per fare gli auguri. Lei prima ha parlato di cronicizzazione della povertà. Sì, perché i dati nazionali ci dicono che le persone che per la prima volta nel 2020, a causa appunto della pandemia, si sono rivolte alla Caritas, nel 2021 hanno continuato per un terzo, diciamo del numero complessivo, ad avere bisogno dell'accompagnamento della Caritas. Questo significa che purtroppo non sono situazioni temporanee, ma che si sta un po' cronicizzando la necessità di un aiuto. Un grande problema in questo senso è che ci sono tante norme e tante misure, meglio, del governo statale, come ad esempio il reddito e l'assegno unico. Però anche qui da un rilevamento della platea dei beneficiari, circa il 30% dei potenziali beneficiari di assegno unico riescono ad accedere alla misura. Quindi c'è bisogno di rafforzare l'accompagnamento e il sostegno alle famiglie per poter accedere a queste misure.